Hazel Frank e Hazel inciamparono l'uno sull'altra. Hazel in pratica si fece la manovra di Heimlich da sola con il pomolo della spada e crollò rannicchiata sul ponte, gemendo e vomitando, con il saporaccio del veleno dei catoblèpi ancora in bocca. Annebbiata dal dolore, udì la polena della nave, Festus, il drago di bronzo, cigolare allarmato e sputare fuoco. Distinto si chiese se non avessero colpito un iceberg, ma... un iceberg nel mare adriatico, in piena estate. La nave rollò a bordo e si udì un fracasso tremendo, come di pali del telefono che si spezzavano. Ah! urlò Leo. Si sta mangiando i remi! Ma che cos'è? si chiese Hazel. Cercò di rialzarsi, ma qualcosa di grosso e pesante le bloccava le gambe. Si rese conto che era Frank, che stava cercando di liberarsi da un mucchio di funi sciolte. Tutti gli altri si stavano precipitando sul ponte. Jason scavalcò con un salto i due ragazzi stesi sul pavimento e corsi a poppa con la spada sguainata. Piper stava già sul cassero, sparando cibo dalla cornucopia e urlando... Ehi! Mangia questo, stupida tartaruga! Frank aiutò Hazel ad alzarsi. Stai bene? Sì, mentì lei, reggendosi lo stomaco. Tu vai! Il figlio di Marte scattò su per le scale, sfilandosi lo zaino, che subito si trasformò in arco e faretra. Quando raggiunse il timone, aveva già lanciato una freccia e stava incoccando la seconda. Arrampicato sul sartiame, Nico era bianco come un lenzuolo. Per l'ostige! È enorme! Urlò. Abba bordo! Virate abba bordo! Edge fu l'ultimo ad arrivare sul ponte, ma compensò il ritardo con l'entusiasmo. Salì le scale in pochi salti, sventolò la mazza da baseball e senza la minima esitazione, corse a poppa come una capra e balzò oltre il parapetto con un allegro grido di battaglia. Barcollando, Hazel raggiunse gli amici sul cassero. La nave tremò di nuovo, altri remi si spezzarono. Leo strillò, no, no, no! Maledetta bestiaccia figlia di... di una lumaca! Hazel si affacciò al parapetto e non credette ai propri occhi. Alla parola tartaruga, aveva pensato a un grazioso animaletto grande al massimo come un portagioie, poggiato su uno scoglio al centro di uno stagno per i pesci. Alla parola enorme, la sua mente aveva provato ad adeguarsi. Forse era come quella tartaruga delle Galapagos che una volta aveva visto allo zoo, con un guscio così grande da poterci si sedere a cavalcioni. Non aveva assolutamente immaginato una creatura grande quanto un'isola. Quando vide la gigantesca cupola di ruvi di scacchi bruni e neri, la parola tartaruga non aveva più nessun senso. Il guscio era un immenso ammasso di terra, fatto di colline d'avorio, scintillanti vallati di perla, foreste di muschio e alghe, gli umidi acqua salata che grondavano lungo le scanalature del carapace. A tribordo, un'altra parte del mostro si levò dall'acqua come un sottomarino. Per tutti i lari di Roma! Quella era la testa? Gli occhi dorati erano grandi quanto due piscine per bambini, con due fessure nere e oblique per pupille. La pelle lucicava come una mimetica militare bagnata, marrone, piazzato di verde e giallo. La bocca rossa è senza denti, ma avrebbe potuto ingoiare la tena partenos in un sol boccone. Il mostro spezzò mezza decina di remi. «Basta!» gemette Leo. Edge si arrampicò sopra il carapace della tartaruga, menando inutilmente dei gran colpi con la mazza e urlando «Beccati questo! È questo!» Jason decollò da poppa e atterrò sulla testa della creatura. Conficcò la spada d'oro dritta in mezzo agli occhi del mostro, ma la lama scivolò di lato come se la pelle fosse di acciaio oleoso. Frank scagliava frecce contro le pupille, ma senza risultati. Le palpebre interne e membranose della tartaruga sbattevano con una precisione soprannaturale, deviando ogni colpo. Piper lanciava meloni in acqua, gridando «Mangia questi, stupida tartaruga!» Ma la creatura sembrava determinata a divorarsi l'argodue. «Come ha fatto ad avvicinarsi tanto?» domandò Hazel. Leo alzò le braccia, esasperato. «Sarà per colpa del carapace! Deve essere invisibile al sonar!» «Non possiamo decollare!» chiese Piper. «Con metà dei remi spezzati!» Leo pigiò qualche tasto e fece roteare la sfera di Archimede. «Dovrò provare qualcos'altro!» «Laggiù!» gridò Nico dall'alto. «Puoi portarci fino a quello stretto?» Hazel guardò dove il fratello stava indicando. A circa 800 metri di distanza, in direzione est, una lunga striscia di terra correva parallela alla costa. Non era facile stabilirlo con certezza da lontano, ma la distesa d'acqua fra le due terre sembrava larga al massimo una trentina di metri. Abbastanza per la nave, ma del tutto insufficiente per il guscio della tartaruga. «Sì, sì!» Leo aveva capito. Ruotò la sfera di Archimede. «Jason, via dalla testa di quel mostro! Ho un'idea!» Il figlio di Giove stava ancora bersagliando il muso della tartaruga, ma quando sentì Leo dire «ho un'idea!» prese l'unica decisione intelligente possibile. Decollò più in fretta che poteva. «Coach, venga via!» esclamò. «No, sto vincendo io!» protestò Edge, ma il semidio lo afferrò per la vita e lo trascinò con sé. Purtroppo, il satiro si divincolava così tanto da far perdere a Jason la presa sulla spada, che cadde in mare. «Coach!» si lamentò il ragazzo. «Che c'è?» replicò Edge. «Me la stavo lavorando!» La tartaruga colpì la nave con una testata e per poco non scagliò l'intero equipaggio fuori bordo. Eise eludì uno schianto, come se la chiglia si fosse spezzata. «Ancora un minuto!» disse Leo, mentre le sue mani volavano sopra la console. «E forse non ce l'abbiamo un altro minuto!» Frank scoccò l'ennesima freccia. Piper, con la sua lingua ammagliatrice, urlò alla tartaruga «Vattene!» Per un attimo funzionò davvero!» Il mostro si voltò e sprofondò sott'acqua. Ma poco dopo riemerse e ricominciò a prenderli a testate ancora più forti. Jason atterrò sul ponte, lasciando la presa sul satiro. «Stai bene?» gli chiese Piper. «Sì, senza spada, ma bene!» «Fuoco alle polveri!» gridò Leo, facendo roteare il telecomando della Wii. Per un attimo Hazel pensò che la poppa fosse esplosa. Getti di fiamme ruppero alle loro spalle, investendo la tartaruga in pieno muso. La nave schizzò in avanti, scagliando a terra metà dei suoi occupanti. Quando si tirò su, Hazel vide che stavano balzando sulle onde a una velocità incredibile, lasciandosi dietro una scia di fuoco come un razzo. La tartaruga era rimasta indietro già di un centinaio di metri, con la testa fumante e un po' arrostita. Il mostro mughiò per la frustrazione e si lanciò all'inseguimento, con le zampe natatorie che avanzavano nell'acqua con una potenza tale da farle già riguadagnare terreno. E l'imboccatura dello stretto era ancora a 400 metri di distanza. «Un diversivo!» mormorò Leo. «Non ce la faremo mai senza creare un diversivo!» «Un diversivo!» ripete Hazel. Si concentrò e pensò... «Aryon!» Non aveva idea se avrebbe funzionato, ma subito intravide qualcosa all'orizzonte. Un lampo di luce e vapore striava la superficie dell'adriatico. In un istante, Aryon era già sul cassero. «Dèi dell'Olimpo!» pensò la ragazza. «Amo questo cavallo!» Aryon sbuffò, come a dire... «Certo che mi ami! Non sei mica stupida!» Hazel gli montò in groppa. «Piper, mi farebbe comodo un po' della tua lingua ammagliatrice!» «E pensare che una volta mi piacevano le tartarughe!» prontolò la figlia di Afrodite, accettando la mano che lei le porgeva. «Ora non più!» Hazel spronò Aryon e il cavallo balzò oltre il parapetto, atterrando sull'acqua. La tartaruga era un'ottima nuotatrice, ma non poteva competere con la velocità di Aryon. Le ragazze presero a sfrecciare intorno alla testa del mostro, con Hazel che sferrava fendenti con la spada, mentre Piper urlava ordini come «Giù la testa! Gira a sinistra! Guardati alle spalle!» La spada non scalfiva il carapace e gli ordini avevano effetto solo per un attimo, ma insieme stavano irritando il mostro a dovere. Aryon nitriva un verso di scherno ogni volta che la tartaruga provava ad addentarlo, e si ritrovava invece con la bocca piena di vapore. Ben presto, il mostro aveva dimenticato Largo 2. Hazel continuava a colpirlo in testa. Piper non smetteva di gridare ordini e usare la cornucopia, per bersagliare le pupille con noci di cocco e polli arrosto. Non appena Largo 2 entrò nello stretto, le ragazze interruppero l'assalto e sfrecciarono verso la nave. Un attimo dopo, Aryon le aveva già riportate sul ponte. La propulsione a razzo si era spenta, anche se a poppa i tubi di scappamento in bronzo fumavano ancora. La nave procedeva beccheggiando solo con la forza delle vele, ma il piano aveva funzionato. Erano in acque sicure, con una lunga isola rocciosa a tribordo e le bianche scogliere della terraferma a poppa. La tartaruga si fermò all'ingresso dello stretto, lanciando chiate piene di odio, ma non cercò di seguirli. Il carapace era evidentemente troppo grande. Eisel fu accolta da un grande abbraccio di Frank. Ottimo lavoro! Lei arrossì. Grazie. Leo, da quando è che abbiamo la propulsione jet? Chiese Piper. Oh, beh, sai... Il figlio di Efesto cercò di fare il modesto, ma fallì miseramente. È solo una cosetta che ho messo insieme nel tempo libero. Mi piacerebbe che durasse un po' di più, ma almeno è servito a tirarci fuori dai guai. E' ad arrostire la testa di quella bestiaccia, aggiunse Jason in tono di apprezzamento. E adesso che si fa? La eliminiamo, gridò Edge. Se è da chiederlo, siamo alla distanza giusta. Abbiamo la balista. Caricare, puntare, fuoco! Jason si accigliò. Coach, per prima cosa, lei ha fatto cadere la mia spada. Ehi, non te l'ho chiesto io di portarmi via? Secondo, non credo che la balista ci servirebbe a molto. Quel guscio è come la pelle del leone di Nemea. E la testa non è da meno. Vorrà dire che mireremo dritto alla gola, replicò il satiro. Come avete già fatto con quella specie di gamberetto gigante nell'Atlantico. Gli diamo fuoco dall'interno. Frank si grattò la testa. Potrebbe funzionare. Ma poi ci ritroveremmo con un'immensa carcassa di tartaruga a bloccare l'ingresso dello stretto. Se con i remi spezzati non possiamo volare, come ci tiriamo fuori di qui? Aspettiamo e aggiustiamo i remi, sbottò Hedge. O salpiamo nella direzione opposta, zoticone! Frank fece una faccia confusa. Cos'è uno zoticone? Ragazzi, gli richiamò Nico dall'albero maestro. Salpare nella direzione opposta non funzionerà. Indicò oltre la prua. A 400 metri di distanza, la lunga striscia di terra curvava su se stessa e si univa alle scogliere. Il canale finiva in una sorta di V. «Non siamo in uno stretto», disse Jason. «Questo è un vicolo cieco». Mentre la donnola, covacciata sulle zampe posteriori, la scrutava, Hazel avvertì una sensazione gelida sulle dita. «È una trappola!» esclamò. Gli altri si voltarono a guardarla. «Ma no, va tutto bene!» replicò Leo. «Alla peggio faremo delle riparazioni. Potrebbe volerci tutta la notte, ma sono in grado di far decollare di nuovo questa nave». Alla bocca dell'insenatura la tartaruga ruggì. Non sembrava neanche considerare l'idea di andarsene. «Beh...» Piper si strinse nelle spalle. «Almeno la tartaruga non può prenderci. Siamo al sicuro qui?» Era una di quelle dichiarazioni che un semidio non dovrebbe mai azzardarsi a fare. La figlia di Afrodite non fece in tempo a pronunciare quelle parole e una freccia si conficcò nell'albero maestro, a dieci centimetri dalla sua faccia. Tutti corsero al riparo, tranne Piper, che rimase pietrificata lì dove si trovava, a fissare con la bocca aperta la freccia che per poco non le aveva fatto un piercing piuttosto violento al naso. «Piper giù!» sibilò Jason. Ma non piovero altri dardi. Frank studiò l'angolatura del colpo e indicò la cima delle scogliere. «Lassù!» disse. «Un solo cecchino! Lo vedete?» Pur avendo il sole negli occhi, Hazel individuò una sagoma in piedi su una sporgenza. La sua armatura di bronzo scintillava. «Chi accidenti è?» domandò Leo. «Perché ce l'ha con noi?» «Ragazzi!» La voce di Piper era fievole e incrinata. «C'è un messaggio!» Hazel non ci aveva fatto caso, ma sul fusto della freccia c'era un piccolo rotolo di pergamena. Non sapeva neppure lei il perché, ma quel fatto la fece infuriare. Corse a slegarlo. «Hazel?» intervenne Leo. «Sei certa che sia sicuro?» Lei lesse ad alta voce il messaggio. «Prima riga! O la borsa o la vita!» «Che significa?» domandò Hedge. «Io non ce l'ho nemmeno, la borsa! Questo tizio è matto!» «C'è dell'altro!» continuò Hazel. «Questa è una rapina! mandate due dei vostri in cima alla scogliera con i vostri beni di valore! Soltanto due persone! Non portate il cavallo magico! Non volate! Non provate a fare scherzi! Salite e basta!» «Salire! E come?» domandò Piper. «Con quelle!» rispose Nico indicando la scogliera. «Una stretta rampa di scale era scolpita nella roccia, dal pelo dell'acqua fino in cima!» «La tartaruga! Il canale senza sbocco! La scogliera!» e Isel ebbe la sensazione che quella non fosse la prima volta che il misterioso orcere tendeva un'imboscata a una nave. Si schierì la voce e continuò a leggere. «E intendo tutti i vostri beni di valore! Altrimenti io e la mia tartaruga vi distruggeremo! Avete cinque minuti!» «Alle catapulte!» gridò Hedge. «P.S.» aggiunse Isel. «Non pensate neanche per un istante di usare le catapulte!» «Maledizione!» sbottò il satiro. «Questo tizio ci sa fare!» «Il messaggio è firmato?» chiese Nico. Isel scosse la testa. Ricordava di aver sentito una storia al campo Giove su un ladro che lavorava con una tartaruga gigante. Ma come al solito, non appena le serviva un'informazione, quella se ne restava annidata in un angolino della mente e non ne voleva sapere di venire fuori. Gail intanto la osservava, in attesa di vedere che cosa avrebbe fatto. «La prova non è ancora arrivata!» pensò Hazel. Distrarre la tartaruga non era bastato. Non era servito a dimostrare un bel nulla sulla sua capacità di manipolare la foschia. Soprattutto perché non era in grado di farlo. Leo studiò la cima della scogliere e borbottò qualcosa fra i denti. «Non è una buona traiettoria, anche se potessi armare la catapulta prima che quel tizio ci trasformi in un puntaspilli. Non credo che riuscirei a colpirlo. È troppo lontano e la traiettoria è quasi verticale.» «Anche il mio arco è inutile», disse Frank. «Ha un vantaggio enorme quel tizio, standoci sopra quel modo.» «E poi...» Piper indicò col mento la freccia conficcata nell'albero maestro. «Ho la sensazione che sia un buon tiratore. Non credo che avesse avuto intenzione di colpirmi.» «In caso contrario, non ci fu bisogno che approfondisse il concetto. Chiunque fosse quel brigante era in grado di centrare un bersaglio da centinaia di metri di distanza. Poteva colpirli tutti prima che fossero capaci di reagire.» «Vado io», si offrì Hazel. Detestava il solo pensiero, ma era certa che Ecate avesse architettato quella storia come una specie di sfida perversa. «Era quella la sua prova, il suo turno di salvare la nave.» A mo' di conferma, Gale zampettò lungo il parapetto e le saltò su una spalla, pronta a farsi trasportare. Frank afferrò l'arco. «Hazel!» «No, ascolta!» lo interruppe lei. «Questo rapinatore vuole dei beni di valore! Io posso andare lassù ed evocare oro, pietre preziose, tutto ciò che desidera!» Leo inarcò un sopracciglio. «Ma se lo paghiamo, pensi davvero che ci lascerà andare?» «Non abbiamo molta scelta», affermò Nico. «Fra quel tizio e la tartaruga...» Jason alzò una mano. Gli altri fecero silenzio. «Vengo anch'io», disse. «Il messaggio parla di due persone. Accompagnerò Hazel lassù e le coprirò le spalle. Quelle scale non mi piacciono. Se Hazel dovesse cadere, beh, posso usare le correnti e impedire a entrambi di farci parecchio male.» Arion nitrì per protestare, come a dire «Vai senza di me! Vuoi scherzare?» «Devo farlo, Arion», disse Hazel. «Jason...» «Sì, penso che tu abbia ragione. È il piano migliore.» «Mi dispiace solo di non avere la mia spada.» Jason lanciò un'occhiataccia al satiro. «E' laggiù, sul fondo del mare, e non abbiamo persi per recuperarla.» Quel nome passò sopra di loro come una nuvola scura. L'umore sul ponte si fece ancora più cupo. Hazel tese il braccio, non si fermò a riflettere. Si concentrò sull'acqua e chiamò l'oro imperiale. «Che idea stupida!» si disse subito dopo. La spada era troppo lontana, centinaia di metri sott'acqua. Ma avvertì un improvviso strattone alle dita, come di un pesce che abbocchia l'amo. La lama di Jason balzò fuori dall'acqua e le volò in pugno. «Ecco qua!» disse Hazel, porgendola all'amico. «Come hai fatto?» «Jason aveva gli occhi sgranati!» «Sarà stata a un chilometro di distanza!» «Mi sono esercitata!» replicò la ragazza, anche se non era vero. Si augurò di non avere per sbaglio maledetto la spada di Jason, evocandola, come faceva con le pietre e i metalli preziosi. Ma per le armi in qualche modo era diverso. Dopotutto, aveva raccimolato un bel mucchio di armamenti d'oro imperiale sul ghiacciaio di Hubbard, rifornendo la quinta coorte. E tutto era filato liscio. Decise di non preoccuparsene. Era così arrabbiata con Ecate e così stufa di essere manipolata dagli dèi, che non aveva nessuna intenzione di farsi intralciare la strada da quelle inezie. «Bene, se non ci sono altre obiezioni, abbiamo un rapinatore da incontrare!» Grazie a tutti!